Quali sono queste modifiche alla legge forestale toscana? Si tratta di una piccola ma sostanziale manutenzione della legge forestale che succede alla legge di ricollocazione delle funzioni dopo la legge 22 e la 70, quindi dopo l'intervento di riordino delle funzioni ex provinciali. Si è intervenuti su due aspetti. Il primo è la gestione delle risorse, quindi un aspetto di natura gestionale e finanziaria, cioè si lascia agli antigestori la possibilità di utilizzare per intero le risorse derivanti dalla gestione delle risorse, delle risorse del patrimonio forestale. In precedenza il 55% di quelle risorse, stabiliva la 39 del 2000, cioè la legge forestale, doveva essere destinato alla regione che poi lo riallocava sui territori. Adesso con questo intervento gli antigestori, quindi le unioni dei comuni, quindi le ex comunità montane, la città metropolitana e i comuni, per l'esercizio di quelle funzioni possono usare per intero queste risorse. Il secondo intervento riguarda l'AIB, cioè l'antincendio boschivo, le attività di prevenzione, che saranno esercitate direttamente dalla regione sulla base di piani di intervento articolati territorialmente su base provinciale, diciamo all'interno di perimetri territoriali, così come convenzionalmente definiti dal punto di vista provinciale. Questo consentirà di esercitare anche tutte le attività sul catastro delle strade percorse dal fuoco, il catastro boschivo, eccetera, in modo centralizzato, quindi gestire dalla regione, ma senza disperdere quello che è il patrimonio cognitivo articolato territorialmente. Grazie.